Credo che per un'azienda la cosa più importante sia proprio quella di generare profitti. Se un'azienda non è profittevole, se un'azienda non è produttiva, ovviamente i profitti vengono meno. È giusto che vi dica anche da dove nasce questa sessione per quelli che sono i profitti aziendali e lo faccio con un esempio semplice. Se io vi mostro questo dito, voi che cosa vedete? Un dito? Una mano? Ok? Io vedo il numero uno, che storicamente è ciò che affossa le aziende. Perché? Perché se in un'azienda c'è un unico titolare o comunque un unico responsabile o comunque un'unica figura per un ruolo, se quella figura viene meno, ovviamente ne risentono anche quelli che sono i profitti di quell'azienda. Perché se un'azienda ha un unico canale di acquisizione clienti e quel canale viene meno, quell'azienda in difficoltà. In questi giorni, no? Siamo ovviamente tutti quanti preoccupati per quello che sta accadendo, per questo limbo che stiamo vivendo tutti quanti in cui ci troviamo. Perché? Perché di base è venuto meno una delle argomentazioni di vendita più forti dell'ultimo periodo, la possibilità di fare lo sconto immediato in fattura. Oggi non è che non si possono vendere serramenti, oggi c'è qualche difficoltà in più nel esercitare l'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura. E chi è che è più in difficoltà? Tutti quelli che hanno fatto affidamento sul numero uno. Perché? Perché l'unica motivazione di vendita è proprio quella dello sconto in fattura. E un po' ci siamo anche abituati di tutto questo. E naturalmente quando questo viene meno, ovviamente i problemi sono sotto gli occhi di tutti. E naturalmente quando questo viene meno, ovviamente i problemi sono sotto gli occhi di tutti.